Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Sorin all'appuntamento settimanale con il Manga News 24. Anche oggi, come sempre, andremo a ripercorrere tutte le notizie più interessanti che ci sono state nel corso degli ultimi giorni, dopodiché andremo invece a cercare di capire che cosa si potrà acquistare in fumetteria nel corso di questa settimana. Prima di iniziare, come sempre, vi chiedo solo la fortesia di lasciare un like e di iscrivervi al canale. Per voi è un gesto completamente gratuito, per me è il supporto più grande che mi possiate dare. Ora invece andiamo con una brevissima sigla e iniziamo subito questo nuovo video. Ed iniziamo con Planet Manga, la quale ci comunica che, a tacco dei giganti, la guida definitiva dei personaggi avrà la stessa identica cover dell'edizione giapponese, di conseguenza questa. Ma questa non è la guida definitiva dei personaggi in versione giapponese, bensì è il numero 34 nell'edizione Variant Beginning. Quindi ragazzi, in pratica ci troveremo due volumi con la stessa copertina, uno della serie principale e uno invece con la guida dei personaggi. Una cosa fantastica e bellissima sarà da vedere, però non ci possiamo fare niente, Planet ha deciso così. Fatemi sapere cosa ne pensate di questa trovata di Planet, che ci dobbiamo tenere, pazienza, di Singa Planet, come ogni video. È uscita la prima mappa per quanto riguarda il Lucca Comics and Game e fra i vari stand che già ci sono stati comunicati troviamo anche quello di Crunchyroll. Sarà presente per tutta la durata della fiera, naturalmente, ma quest'anno ci sarà una grandissima novità. Infatti sarà presente anche il Crunchyroll Store, in cui sarà possibile acquistare una versione speciale della carta prepagata nella sua Limited AIM Edition e l'esclusivo Crunchyroll AIM Nendoroid, che è possibile trovare soltanto negli eventi in Italia. La terza parte di Le bizzarre avventure di Jojo Son Ocean, che comprenderà gli episodi dal 25 al 38, sarà disponibile solo su Netflix a partire dal 1 dicembre. Qualche settimana fa era uscita in alcune edicole italiane una sorta di Perfect Edition di Fairy Tail, una sorta di 2 in 1, 3 in 1, ora non ricordo. Con l'uscita del numero 4, però, Hachette comunica ai lettori che è obbligata a interrompere la produzione per ragioni di carattere tecnico. Naturalmente si augurano di riuscire a riprendere la pubblicazione il prima possibile e ripartire anche dal volume numero 1, in modo da riuscire a prendere il più pubblico possibile. Queste ragioni tecniche mi suonano un po' strano in realtà. Molto probabilmente hanno fatto un esperimento, infatti in tantissime edicole non è arrivata questa edizione, ma se è andata bene questa sorta di esperimento che hanno fatto, magari a partire dall'anno nuovo con il volume numero 1 riprenderanno a serializzarla e stavolta la porteranno avanti fino alla fine. La produzione di Togenanki Sangue Maledetto nel suo Blind Pack è terminata e anche le ultime copie, diciamo che chi le ha già in fumetteria le può vendere, ce le avrà ancora disponibili, ma non sono più ordinabili in nessun modo. Di contro, naturalmente, le fumetterie potranno da questo momento in avanti richiedere il numero 1 in edizione regular e venderlo senza problemi. Fatemi sapere in quanti di voi sono riusciti a trovare qualche variant di questo titolo, che sia quella da 1000 sia quella da 100. Purtroppo, se avete visto i video acquisti, ho trovato la regular, ma un pack solo l'avevo acquistato. E ora, ragazzi, mettiamo da parte quelle che sono le news e passiamo a quelle che invece sono le uscite di questa settimana. Iniziamo, come sempre, da Star Comics, che farà debuttare come nuovo titolo Scam's Wish. L'ho già detto più volte, una storia abbastanza, secondo me, drammatica sotto alcuni punti di vista, per il semplice fatto che l'amore che provano i veri protagonisti nasconde tanti, forse troppi segreti, che pian piano poi dovremmo cercare di capire come si evolveranno e come cercheranno magari di risolvere una questione enorme che c'è tra di loro. Poi, invece, proseguiranno Nogan's Life, col volume numero 12, Bakemonogatari Monster Tail arriva al 15, Darling in the Franxx si avvicina tantissimo alla conclusione con l'uscita del penultimo numero, ovvero il numero 7, e concludiamo Star Comics con l'uscita di Mao, il volume numero 12. Passiamo ora in casa a J-Pop, dove troveremo il volume numero 2 di DandaDun, sia in versione regular e sia in versione variant, ma attenzione, vi ricordo che la variant è un'esclusiva di Pop Store, quindi il sito Pop Store, oppure i negozi fisici della catena Games Academy. Per chi è andato a Romics si sarà reso conto che lo stand di J-Pop la vendeva già a Romics in esclusiva. Continueranno poi Shadow House, che arriva al volume numero 10, My Dress Up Darling arriva al volume 6, Game of Famiglia arriva al volume numero 8, Under Ninja arriva al quinto. Dopodiché ci sarà l'uscita del secondo numero, per chi non ha acquistato il cofanetto della maschera di Innsmouth, e attenzione, attenzione, perché dopo l'artbook di The Promised Neverland, questa settimana uscirà invece quello di Anako-kun, quindi un altro artbook che probabilmente in molti di noi l'avevamo già ordinato qualche mesetto fa, finalmente vede la luce e anche questo riusciremo a portarcelo a casa. Per quanto riguarda invece le ristampe di Casa J-Pop, possiamo trovare i volumi 1 e C, dall'1 al 5, scusate, di I Am My Hero, quindi tutti i volumi usciti torneranno disponibili, Comic and Communicate con i volumi 19 e 20. Questi erano i due titoli in ristampa questa settimana da parte di J-Pop. Passiamo ora a Planet Manga, e come tutte le settimane io vi dico tutto quello che è uscito sul sito fino a oggi, però Planet ha avuto la brillante idea di iniziare ad aggiornare il sito il martedì mattina, quindi o questo video lo facciamo post uscite, oppure su Planet qualcosina da rivedere il giorno stesso delle uscite ci sarà sempre purtroppo. Ditemi voi se volete continuare così, o se lo volete magari posticipare al mercoledì, anche se secondo me sarebbe abbastanza inutile. Comunque di Planet dovremmo trovare Agente 008, il volume numero 15, Noragami Call 25, Demon Slave, volume numero 5, Jujutsu Kaisen 16, e finalmente direi dovrebbe uscire anche il numero 8 di 20th Century Boys. Per tutte le altre uscite, se so qualcosa ve lo scrivo nei commenti o in descrizione, altrimenti vuol dire che il giorno dell'uscita avremo qualche sorpresa da parte della casa editrice. Per Icari troveremo ben tre uscite, e sono Gannibal col volume numero 6, Jimman col volume numero 2, e numero 2 anche per cinema. Concludiamo con Magic Press, che fa uscire 5 titoli, ovvero 36.000 secondi al giorno, volume numero 4, Last Game, volume numero 7, Skip Beat, volume 19, The Eminence in Shadow, il volume numero 4, e il volume unico Entai, Curvy, è bello. Però attenzione, perché questa settimana abbiamo anche Goen, due volte in giro di poco tempo, mi sto iniziando a preoccupare, e Goen farà debuttare due suoi titoli, e sono 30 anni Vergine Mago, e Un Mondo Senza Umani, naturalmente entrambi con il primo numero. Kiseiju Reversi arriva al volume numero 8, La Leggenda di Nobunaga prosegue con il quindicesimo, Mononoke and Limbronciato, volume 6, La Vendetta di Masamune, il numero 2, e Skullive con il suo sesto volume. Ragazzi, e io qua concludo il video, spero che vi sia piaciuto, ma che soprattutto vi sia stato utile. Io vi ringrazio di cuore per la visione, vi chiedo soltanto di lasciare un like, ed iscrivervi al canale. Per voi un gesto completamente gratuito, per me il supporto più grande che mi possiate dare. Vi mando un abbraccio grandissimo, e noi ci sentiamo al prossimo video. Ciao a tutti! Ciao a tutti!